Cari amici del blog di Mosaico, oggi siamo con un'autorità di quelle toste, Rudy Bandiera. Rudy Bandiera che prima di tutto, prima di chiacchierare, prima di parlare, di entrare nello specifico della nostra conversazione, io ringrazio. Grazie a voi, tra l'altro grazie anche per avermi definito un'autorità, che è una cosa magnifica, della quale ti ringrazierò per sempre. Ciao a tutti, grazie. No, veramente stiamo parlando di un Michael Jordan della comunicazione sul web, quindi insomma sono veramente felice e onorato di ispitarti. Allora Rudy, tu dici di te che sei un raccontastore in digitale, che fai quello che i bravi chiamano storytelling, è una parola che ormai da diversi anni sta sulla bocca di tantissime persone, a volte magari anche in modo non estremamente corretto o preciso. Allora, come possiamo in qualche modo svecchiare o reinventare un termine che, seppur giovane comunque, alcuni già definiscono inflazionato? Via, ciac. Praticamente non si tratta di una parola nuova, non si tratta nemmeno di un concetto nuovo, anzi si tratta di un concetto che è sempre esistito, che fa parte della storia dell'umanità, al quale noi abbiamo riappiccicato un'etichetta inglese, per raccontare appunto una cosa che c'è sempre stata, che è il raccontare. Quindi non si tratta, qua è un loop di paradossi, non si tratta tanto di specchiare, ma si tratta di riprendere il senso vero della parola raccontare, no? di raccontare delle storie, che è lo storytelling. Il problema qual è? Che quando una parola va di moda, quando una cosa va di moda, viene violentata, si perde il valore della parola stessa. Quindi oggi le aziende pensano di fare storytelling raccontando con Boria, spesso, la loro situazione, chi sono, che cosa fanno, ma questo non è storytelling, questo non ci ne frega niente, questo è un comunicato stampa, lo storytelling è raccontare le storie di chi fa parte dell'azienda, il perché si fa qualcosa, anziché che cosa si fa, e quindi bisogna riprendere il possesso della parola raccontare, ecco. E secondo me questo non è uno svecchiare, ma è tornare un pochino alla tradizione, come è giusto che sia, perché è una parola italiana. Quindi per andare avanti torniamo indietro? Sì, in questo senso sì, perché raccontare non è scrivere chi sei e cosa fai, questo non è raccontare, e raccontare è tutto un altro discorso, è arrivare alla pancia delle persone, riuscire a sfruttare, non sfruttare, a cavalcare le emozioni, per riuscire a trasmettere un messaggio, e se ci pensiamo bene, il raccontare non è un raccontare dei fatti, perché sennò è cronaca. È notizie. Il raccontare è toccare in maniera personale le corde degli individui, degli utenti, delle persone, per fargli passare dei messaggi, quindi non è il cerchio di sine, non è tanto il cosa, ma il perché. Il raccontare serve al perché, perché facciamo qualcosa. È bellissimo, noi nei nostri corsi partiamo sempre proprio da lì, dal perché, dal dare una motivazione per cui lo studente deve imparare qualcosa, altrimenti non capirà neanche che cosa farsene di quell'informazione. Assolutamente, e questo sembra banale, ma spesso le aziende tendono a raccontare che cosa fanno, ma chi se ne frega di che cosa fai? Dimmi il perché fai qualcosa. Se Jobs non avesse comunicato che l'iPhone cambiava le nostre vite, ci avrebbe permesso di prendere del possesso del nostro tempo, delle nostre relazioni, dei nostri rapporti, non avrebbe più tutto il telefono. Se avessi detto facciamo un telefono molto veloce con tanta RAM, ma chi se ne frega? Quindi è il perché che bisogna raccontare in ogni cosa, e poi il come e poi il che cosa. Caro Rudi, che connessioni vedi tra formazione digitale e social media? Tu che sei un guru dei social media, come possiamo integrare nella pratica questi due sistemi? Questa è una domanda complicata, molto complicata. C'è un problema nel fondo secondo me, nel mondo dei social media non esiste, non è codificato, non esiste un codice di, passami il termine forte, di comportamento, di educazione. I social sono nati, cioè Facebook è nato nel 2004 ragazzi, siamo nel 2017, non abbiamo fatto in tempo a generare un percorso educativo di codici. Quindi cosa succede? Che siamo completamente alla mercè di quelli che fanno le cose per la prima volta, me compreso. Qualunque cosa non si faccia oggi sui social è virtualmente la prima volta che si fa. Quindi è difficile in questo momento correlare due cose che sono una storicamente conclamata e solita, come la formazione e l'insegnamento, e una nuova e assolutamente non codificata, come per esempio il, scusami, uh magnifico, scusami l'interruzione ma ho comprato con un computer ed è arrivato in questo momento, quindi puoi immaginare, è il grande citatore. A auguri! È molto difficile fondere una realtà codificata, solida, stabile, concreta e storicamente accettata come la formazione, anche se in forme diverse come per esempio le learning, e un mondo che non è per nulla codificato come quello dei social. Quindi vedo, in questo momento è una prateria, è una prateria aperta sulla quale francamente non so quali possano essere le soluzioni giuste e più funzionali, perché appunto è una prateria aperta, bisogna sperimentare, bisogna sperimentare un sacco, ma è sicuramente il mondo della fusione tra queste due realtà, molto plausibile per quello che riguarda il prossimo futuro. Poi sappiamo che i social sono emozionanti per loro stessa natura e abbiamo appena detto che correlare un'informazione a un'emozione è il modo per farla passare. Bisogna trovare il modo giusto, se devo dire come in questo momento... Mi sembra di fare il profeta su qualcosa che anch'io non so. Mi spiego. Ultimamente sto provando dieci modi diversi per fare i video. Ovviamente arriva sempre un palosolo di video, ma la stessa cosa si ripete in ogni tipologia di cosa che faccio. Sperimento talmente tanto che faccio fatica a volte a capire cos'è la cosa che funziona. Perché sperimento solo, capisci? La sperimentazione per sua natura serve per provare qualcosa, vedere se funziona e quindi replicarla. Mentre invece io faccio fatica a replicare perché è tutto talmente nuovo e quindi faccio dieci tipologie diverse di video, uno con dei filtri, uno senza filtri, uno con lo sfondo blu, uno con la luce naturale, uno con il microfono bluetooth, uno senza microfono, uno con l'auricolare. Ognuna di queste volte ho dei risultati migliori o peggiori, non importa, sempre diverse. L'unica cosa che rimane uguale è io, quindi il format diciamo sono io e il contenuto che cerco di passare, come dicevamo in precedenza, cerco di dare delle pillole che siano chiuse, cioè che ci sia un'apertura, un concetto e una chiusura del concetto. Però è la forma che cambia continuamente, continuamente, continuamente ed è difficile trovare una forma che sia ragionevolmente trasversale, che possa piacere a tutti, perché ognuno trova qualcosa che non va. Quindi io come faccio? Non lo so. Io non faccio altro che fare delle prove su delle prove su delle prove e queste prove diventano il format alla fine, è incredibile, perché la gente dice guarda che cambia sempre, ok? Montemagno, per dire un personaggio molto noto in questo momento, ha una caratteristica peculiare, cioè quando fai video è sempre la stessa inquadratura, sempre la stessa luce, montati sempre nello stesso modo. Il format di Montemagno è quello. Il format di Ludi Bandiera è Ludi Bandiera. È l'unica cosa che c'è sempre. Per il resto non esiste nulla che si ripete. Giusto o sbagliato? Passano dei concetti, secondo me sì, ma non riesco anch'io tuttora a codificare questa cosa. A me hai passato due concetti fondamentali. Reinventarsi sempre, quindi mai fare sempre la stessa cosa, perché prima o poi comunque stanca. Essere pionieri, cioè andare a cercare sempre la novità e guardarsi intorno, come dici tu, giudicare anche quello che fanno gli altri. La seconda cosa che è importante che mi è passato è essere se stessi, cioè noi siamo formatori, abbiamo una conoscenza da trasmettere e il miglior modo per farlo è guardare prima a noi stessi e a come noi stessi abbiamo imparato in passato e desideriamo che gli altri imparino. E quindi il valore umano in questo assume maggiore importanza rispetto a quello che poi è il mezzo, il canale tecnologico e il modo in cui lo si adopera. Aggiungo quello che hai detto per concludere perché è correttissimo. Noi parliamo sempre di personal branding, avere un'immagine che sia in qualche modo riconoscibile e anche spendibile, vendibile eccetera. Però in effetti se ci pensiamo, siamo noi quello che è spendibile e riconoscibile, non necessariamente il format attorno. Il format siamo noi. C'è un po' secondo me online, specialmente sui social, una grande voglia di creare dei format. Ma io non ci credo tanto. Non ci credo perché comunque nel momento in cui lo crei, ok, l'hai fatto, ma fai qualcos'altro perché ti ha già stancato, la gente si stanche in fretta. Il format, l'unica cosa sempre uguale, cioè sempre uguale, sempre presente devi essere tu. Il resto deve essere liquido, secondo me. Se mi sente qualcuno poi mi dice che è una stronzata, perché non è che possono essere tutti d'accordo con questa cosa qua, assolutamente. Se ti sente Montemagno... Ma Montemagno, per esempio, è uno di quelli che ha creato un format e va benissimo, funziona. Semplicemente penso che non sia obbligatorio farlo. Questo ci insegna che non c'è una regola fissa. No, bravissimo, non c'è nulla di codificato. Quindi invece di dire, ok, ho fatto questo qua, continuo a farlo perché funziona, fanno un altro, funziona anche l'altro. Prova, sperimenta. Grazie. Grazie a te. Tu sei il socio fondatore di NetPropaganda, un'agenzia che si occupa di accompagnare aziende e privati a creare la propria identità nel mondo vastissimo, variegato, che ben conosciamo, del digitale e a fare business. Sempre più sono le aziende che si preoccupano di come veicolare la formazione al loro interno e le più grandi hanno già adottato il digitale, quindi l'e-learning, così come lo standard, affiancandolo spesso e volentieri, per fortuna, aggiungo io, all'aula, perché di learning non si pone come sostitutivo, ma come rafforzativo dell'aula. In Italia, però, permettimi di fare questa riflessione, le PMI sembrano ancora non sentirci da questo orecchio. Come mai, secondo te, e cosa possiamo fare per invertire questa tendenza? Hai purtroppo perfettamente ragione ed è quella che io ho definito la mia missione, sempre per il discorso del perché. Qual è il problema fondamentale, al di là delle PMI, tra il modo più trasversale, cioè anche delle persone comuni, non necessariamente di imprenditori, o di manager, o di responsabile marketing. Il problema fondamentale è la mancanza di consapevolezza che tu hai una necessità. Mi spiego. Il web, i social, sono estremamente complessi, sia da un punto di vista comunicativo che da un punto di vista tecnico, ovviamente. Ma noi le intercepiamo come qualcosa di assolutamente semplice. Beh, uso Facebook, faccio 4 like, posso fare a usare Facebook. Non è così. Quindi cosa succede? Che le persone normali, che non riescono, che non sono in grado di approfondire perché non ne hanno voglia, perché pensano di saperlo, eccetera, pensano di sapere tutto, quindi pensano di non avere bisogno di formazione. Questo qui è un problema enorme. Le aziende sono composte da persone, il PMI, ma non solo, da persone che credono di sapere come funzionano le cose sul mondo digital. Quindi credono di non avere bisogno di formazione. È incredibile. Quindi il nostro, la mia consapevolezza, la mia missione, è quella di rendere le persone consapevoli che non sanno nulla, che fin quando non sanno come funzionano realmente i social, sono dei target pubblicitari. Fin quando te ne vai da Amazon dopo che hai visto un prodotto e ritrovi lo stesso prodotto su Facebook una settimana dopo e non sai come funziona questo sistema, sei un target. Quando le aziende capiranno allora si può fare questo, si può fare quello, ci sono un sacco di opportunità, allora si metterà in moto un volano anche della formazione. Quindi il nostro primo ruolo è quello di consapevolizzare, secondo me. È fantastico, io starei a chiacchierare con te per ore, però purtroppo non si può, perché comunque una delle regole non scritte della comunicazione sul web è che comunque dobbiamo essere veloci. Però a questo punto permettimi di dirti che ti rinviterò perché ci farà piacere riascoltarti magari tra qualche tempo e vediamo se è cambiato qualcosa, vediamo se siamo riusciti insieme tutti, intendo i professionisti del web a consapevolizzare un po' di persone in più. Questa è la nostra missione. Assolutamente, speriamo, ce lo dobbiamo fare perché se no qua andiamo tutti non dico dove. Rudy, grazie e a risentirci questo. Rudy Bandiera lo trovate sui suoi canali social, andatelo a cercare e non rimarrete delusi. Grazie.